Ciao a tutti, mi chiamo Sebastiano Belfiore, nato a Napoli, però vivo da Parma da circa più di 30 anni. Sono pensionato attualmente, sono qui a Chisinau per il secondo viaggio che ho fatto per mettere i definitivi. È stata un'esperienza bella, tutto sommato, è stata un'esperienza positiva. Ho raggiunto l'obiettivo che mi era prefisso, quello di mettermi e di risolvere i problemi ai denti. In questa struttura, grazie a questo staff di ottimi medici, ci sono riuscito e sono contento e sono grato a loro per il loro operato. L'approccio con il dottor Palmas è stato quando eravamo in vacanza in Sardegna. Avevo visto un cartello pubblicitario, dottor Palmas, su un dentista in Moldavia. E mi ha colpito questo fatto, perché oltre all'italiano io parlo pure rumeno. E allora ero in macchina con mia moglie e ho detto, guarda, un dottore italiano che è in Moldavia, perché mia moglie è della Moldavia. E così ha iniziato un certo percorso di curiosità, perché avevo da fare dei lavori con i denti, però ero già in parola con un dentista a Parma e io per correttezza, quando do una parola la mantengo. Ma non sono rimasto soddisfatto del lavoro che mi hanno fatto a Parma, dico la verità, benché erano già alcuni anni che ero dietro a fare tutto il lavoro in bocca, ma non ero per nulla soddisfatto. Dopodiché ho preso l'iniziativa di mandare una panoramica al dottor Palmas, il quale mi ha risposto dicendo anche il tipo di intervento che dovevo fare. Pertanto ho incominciato una semplice pubblicità in Sardegna, poi la cosa è andata avanti portandomi ad essere qui a Chisinau. Io ho fatto due zigomatici, più altri quattro impianti sopra e quattro impianti sotto. La linea standard, sì, perché è la linea standard per il momento, però già mi sono prefisso alla prossima occasione, visto che mi piacciono i denti che hanno fatto, però ho visto adesso anche gli altri tipi di denti, la Superior e la Premium. Non avendo adesso il momento, la possibilità economica di farla, mi sono prefisso, il prossimo obiettivo è quello di cambiare linea. Certamente si paga molto meno rispetto agli dentisti che abbiamo a Parma. Io parlo di Parma perché ho sempre fatto tutti i lavori a Parma. Molto meno, con una, penso, una qualità superiore, anche sotto l'aspetto tecnico, cioè avete un modo di lavorare qui, avete, hanno un modo di lavorare gli dentisti qui di questa struttura del SOS crismo dentale completamente diversa da quello che si fanno in Italia. Per di più, avendo messo anche i due zigomatici, pertanto è un'operazione anche più invasiva, più completa, più complessa. E questo mi ha portato a raggiungere gli obiettivi, una soddisfazione che forse, se l'avessi fatto a Parma, avrebbe avuto un incremento economico di diversi migliaia di euro. Questo è un po' come sicuro. Beh, io penso che il sorriso è una chiave di presentazione, no? Cioè, quando sorridi a una persona, questo ti fa stare a tuo agio, metti a tuo agio, dà anche un senso alle cose che dici, perché vuoi dire una cosa positiva, mettendoci la mano davanti, perché ti vergogno, non puoi farla, non trasmetti l'idea di quello che vuoi dire. Il sorriso conta molto, è molto importante, pertanto sono molto soddisfatto di questo.